Approvate due mozioni sul tema del randagismo a San Cataldo durante il Consiglio Comunale del 27 ottobre, firma dei consiglieri comunali del Partito Democratico San Cataldese, Francesca Cammarata e Marco Imera. Ormai da diverso tempo, in varie zone del centro abitato e della periferia, circolano stabilmente cani di taglia media e grande, che mettono in serio pericolo l'incolumità pubblica delle persone, affermano, così come si legge nel comunicato stampa. Inoltre il nostro ente sostiene un costo notevole per la custodia in canile. La nuova legge regionale non basta, proseguono. Per questo motivo abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi tempestivamente con ogni azione necessaria a risolvere il problema del randagismo, collaborando con le associazioni animaliste, approvando un apposito regolamento, promuovendo le adozioni dei cani e istituendo la giornata del cucciolo, ma anche errorando le sanzioni amministrative in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Propongono inoltre uno sgrabio fiscale per il cittadino e c'è una riduzione delle atari fino a 600 euro all'anno per promuovere l'adozione e ridurre le presenze nel canile, nonché buoni da spendere nei rivenditori di prodotti e servizi per la cura degli animali. Il cittadino dovrà però garantire un ambiente idoneo e le cure veterinari necessarie. Per tale motivo si prevederebbe anche un controllo annuale sulla condizione del cane adottato. La lotta al randagismo è una battaglia culturale e queste iniziative possono aiutare a diffondere messaggi positivi alla popolazione, esclamano. Quello che viene identificato comunemente come un problema, concludono, può trasformarsi in occasione per scoprire il rapporto tra l'uomo e gli animali, portando allo stesso tempo benefici economici al comune e alla famiglia.